Siamo segregati dentro casa qui, non so se è vita questa. Lo sconforto e il disagio, insieti in queste parole, sono legate all'ennesimo guasto di un ascensore a Ostia Ponente. In questo caso siamo al quinto piano di una palazzina Ater di Via della Tortuga al Civico 70. Negli appartamenti abitano famiglie con gravi problemi di salute, tutte prigioniere in casa da oltre dieci giorni. Allora siamo qui dalla signora Tiziana al quinto piano. Da oltre dieci giorni si è senza ascensore. I disagi sono enormi per voi? Eh sì, parecchi, perché io sto così, vedi, col carellino. Poi c'è una signora qua che sta su a sedia a rotelle. I ragazzi del qua hanno quattro ragazzini, portali a scolla, va lì e riprende. È un macello, è un macello. Fare la spesa, le visite saltate, insomma lo pagate un po' sulla vostra pelle. Eh sì, sì, perché io guardo sempre a vedere il frigorifero, voto, le visite non saltate due. Io ho cinque bambini, cinque nipoti. Per lei è una faticaccia, insomma, con cinque nipoti. Me le devo mettere in braccio, scende, c'è uno di tre anni, uno di due anni. Uno mantengo, uno scende, uno sale. Come fate voi? La signora è sulla staglia a rotelle, quindi insomma ha bisogno di... Non scende, non esce di casa in pratica. Quanto è importante per voi che questo ascensore torni subito in funzione? Ma un male quarto. È vitale in pratica, perché io ce la faccio a stare e scendere, insomma. Ma lei è praticamente segregata dentro casa. Questo di certo non aiuta anche psicologicamente? È certo, è certo che non aiuta psicologicamente. Lei ha bisogno di uscire, di prendere aria, di guardare un attimino, di spazio un pochettino, insomma. Tiziana rivolge un appello direttamente alla ditta incaricata dall'Ater, affinché venga effettuato un intervento con estrema urgenza. Io prego questa del Bo, se viene per favore subito, celermente perché non possiamo star così. Io specialmente che sto col carrozzino non ce la faccio a farmi i cinque piani a piedi e andate e ritorno. A quanto pare la ditta in questione avrebbe garantito un intervento nelle prossime ore. Grazie a tutti.